Siamo a Vallelunga sempre con il team Nuova M2 adesso sono le 7 di mattina di sabato quindi oggi ci sarà qualifica 2 e domani abbiamo l'ultima gara del National vediamo, beh ormai si sa già il risultato però vediamo che risultato porterà Lamarra domani a casa ciao Miki i meccanici stanno ultimando le modifiche sulla moto di Lamarra in vista della Q1 del National Trophy vediamo come si posizionerà adesso vediamo cosa stanno facendo andiamo a spiarle andiamo a spiarle e Bene, la Q1 è iniziata Infatti si sentiranno le moto che stanno passando Ciao, orsetto! Eddie è rientrato ai box, per il momento è in terza posizione Vediamo appena ritorna in pista Comunque Eddie ha finito la Q1 in terza posizione Dietro a Cocco e Fabrizio Tutto va bene, mi riprende e fa portarmi a forum Conoscendo il tuo sangue Non so neanche parlare questo Anche tu che chiedi intelligenza a Michele Cioè, non è fattibile Dai, gommista, un commento Tecnico delle gomme Tecnico delle gomme, no gommista Su mia c***a che cambia le gomme Ultimi preparativi prima della qualifica Q2 Bandiera rossa, tutti quanti di nuovo dentro ai box Eddi Lamarra ha chiuso in terza posizione nella Q2 Quindi non ci resta che aspettare domani la gara E chiaro le conclusioni del weekend Sicuramente ormai ha già vinto il campionato E dopo tutte queste gare Andiamo a vedere il team dentro cosa sta combinando ai box Eh? Io vi con Cristian GH Ma vuole la foto o vuole il video? Un videoblog vogliamo E allora sta già facendo il videoblog Viva I meccanici stanno ultimando la preparazione della moto di... I meccanici stanno ultimando le ult... Ripeto I meccanici stanno facendo le... I meccanici stanno preparando le ultime... Ragazzi, sono proprio stupido